Salve, sono MonkeySimon e dall'ultima volta in cui abbiamo parlato dei miei 10 luoghi preferiti di tutto quanto Fortnite sono passati quasi due anni. E se stiamo qui a parlarne un'altra volta è perché forse delle cose sono cambiate. Ma prima di cominciare con questa lista aggiornata vi invito ad inserire il codice MONKEYSIMON all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. E partiamo subito con un colpo di scena perché alla posizione numero 10 c'è condotti confusi. Chi si ricorda il video dei luoghi che più odio di Fortnite saprà che ci ho messo condotti confusi. Mentre MONS si trova qua. Che è successo in questi ultimi due anni? Come mai condotti confusi dai peggiori luoghi è passato addirittura ai migliori? Essendo stato comunque trasposto scala 1 a 1 è rimasto sempre lo stesso come posto. Ma è stato ampliato e per lo più c'è addirittura un gameplay diverso con cui approcciarsi ad un luogo che prima non sopportavo. Non perché lo reputassi brutto, anzi era anche abbastanza bello a livello di level design. Ma perché nel capitolo 1 era situato in un posto centrale della mappa. Ed era anche molto noioso perché si finiva sempre inevitabilmente lì nelle fasi morte della partita. Quindi lo associavo a questa sorta di noia all'interno di un match nella Battle Royale. Oggi nonostante il luogo sia sempre lo stesso è anche ampliato. Quindi c'è pure una parte in più con le miniere che vi ho mostrato nel primo video dei luoghi sottovalutati. Dove inevitabilmente ho rovinato il gameplay alle persone. E quindi c'è pure più loot, c'è più varietà all'approccio a quel punto della mappa. E non ho più quella sensazione bruttissima che mai dovrebbe capitare in un videogioco di noia associato a Condotti Confusi. Quindi diciamo che quel ricordo del capitolo 1 è stato cancellato. Forse è stato anche un po' ammorbidito. Alla posizione numero 9 c'è l'agenzia barra autorità. Che metto insieme perché sebbene siano due luoghi distinti appartenenti a due distinte fazioni. Sono presso che la stessa struttura posta nello stesso luogo. Quindi stiamo là. Forse l'agenzia è amata dalla community leggermente di più dell'autorità. Per ovvie ragioni perché faceva parte di una delle stagioni più amate di tutte. Forse la più amata di tutte. Cioè la stagione 2 del capitolo 2. Dove era presente il boss di Meeda. Dove c'erano un sacco di ricompense. Il cavo. C'era un sacco di gente anche con cui fai dare. Quindi il divertimento era sempre al massimo per chi voleva l'azione. Ed era anche un luogo molto dinamico. Come tutti quanti i luoghi dei boss in proprio in quella season lì. Con torrette, telecamere, travestimenti, scagnozzi. La prima volta che c'erano degli scagnozzi e dei boss all'interno di Fortnite. Ed essendo che quella struttura, quell'edificio apparteneva ad un boss che era stato caratterizzato. Esattamente come tutti quanti gli altri boss presenti in quella season. Quindi anche gli altri luoghi avevano subito la stessa sorte. C'hanno lo stesso effetto nostalgia oggi. È riuscito a rimanere nel cuore dei giocatori in quanto. Sì, era un edificio sicuramente in tema con la stagione. Ma aveva una caratterizzazione. Quindi apparteneva realmente a qualcuno. E quel qualcuno ci abitava dentro. Il luogo era vivo. Perché a renderlo vivo c'erano dei personaggi vivi. Sebbene delle intelligenze artificiali, dei personaggi non giocanti. Quando in un videogioco un personaggio o un luogo riescono ad essere vivi. Dandogli appunto l'illusione che siano vivi a fatto centro. L'agenzia e leggermente meno l'autorità non sono dei semplici landing. Ma sono dei luoghi in cui tutti quanti abbiamo vissuto. Almeno chi ha giocato in quelle season. Poi a livello prettamente tecnico erano dei luoghi abbastanza densi. Che si sviluppavano anche in verticale. E che erano anche labirintici. Con condotti, sotterranei, stanze segrete. Insomma, il mio genere di luogo su Fortnite e anche in generale nelle Battle Royale. Perché ho amato edifici del genere su Warzone ad esempio. Infatti il Daily Bugle richiama molto la densità di spazi all'interno degli edifici di Warzone. Che ho apprezzato. Alla posizione numero 8 c'è i Jones. Sì, esatto. C'è anche i Jones all'interno di questa lista. Come non includere la città dei Jonesi. La città progettata appositamente per me. Sebbene non si tratti effettivamente di una città. Ma di un accampamento all'interno della giungla. Il mio bioma preferito. Ed è anche uno dei luoghi in cui atterriamo molto di frequente. E ci atterrà anche in realtà mezza lobby ogni volta. E lo facciamo sempre con molto piacere. È un luogo che in un certo senso piace nonostante sembri vuoto. Che non lo è per niente. Anzi, c'è persino una città che non è inclusa nel nome. Ma è praticamente i Jones 2 lì di fianco. E poi c'è pure la spiaggetta che è un altro dei luoghi sottovalutati. Nel video in cui ho rovinato il gameplay e l'esperienza di gioco alle persone. È uscito anche un seguito, sappiatelo. E mi raccomando, ogni volta che le live di Pazzox iniziano e non ci buttiamo ai Jones. Dovreste rimproverarlo perché si inizia sempre la live ai Jones. Alla posizione numero 7 c'è lo Yacht. Che bei ricordi ha lo Yacht. Anche se ci ho giocato pochissimo alla stagione 2 del capitolo 2. Me lo ricordo perfettamente quel luogo. Dinamico, con la musica. Esattamente come tutta quanta questa season. Con il cavo, con il boss di Deadpool. Con un casino immenso perché tutti ci atterravano. Nonostante quello fosse un luogo al margine della mappa. All'angolino, vicino a Foschi. Anche esso, luogo molto vivo in quanto le cose sono cambiate. Ed apparteneva prima a Miaoscole. Poi dopo appunto a Deadpool. Che ha pure vandalizzato la statua di Mida. Bravissimo. Lo Yacht poi, anche se non è stato più un punto di riferimento. Si è evoluto nello Yacht 2. Quello vandalizzato completamente da Deadpool. Quello devastato anche dall'evento finale della stagione 2. E che c'è appunto stato nella stagione 3. Unica cosa che non ho mai apprezzato di questo posto. Era il fatto che lo Yacht non si muovesse. Che non cambiasse casualmente spot all'interno della mappa. Ogni volta. Ad ogni reset del loop. Ad ogni partita. Esattamente come fa la nave pirata dalla stagione 3 del capitolo 2 in poi. Alla posizione numero 6. C'è il laboratorio della datrina del capitolo 1. Sebbene voi stiate vedendo quello del capitolo 2 in background. Perché ho quello di materiale. Come mai amo più quello del capitolo 1. Piuttosto quello che del capitolo 2. Sebbene fosse la stessa identica struttura. Trasposta all'interno di un'altra mappa. Addirittura sulle stesse coordinate. Beh, c'è stato delle differenze sostanziali. È vero l'edificio è sempre quello nel capitolo 2. Ma non ha tutta quanta l'area del parcheggio. Che quindi arricchivano il tutto con del loop in più. E soprattutto il luogo è molto meno isolato. In quanto non ci stanno le montagne intorno. Sapete com'è? C'è quella bellissima caratteristica della mappa del capitolo 2. Dell'essere vuota e piena di pianure. Nel capitolo 1. Da laboratorio della latrina. Almeno fino alla stagione 6 del capitolo 1. Potevi raggiungere tanti luoghi. Potevi raggiungere la fabbrica con la discoteca. Potevi raggiungere a Prodo Avventurato. Potevi raggiungere il campo da calcio. Potevi raggiungere addirittura pinnacoli e condotti. Facendo un pochetto più di strada. Quindi i luoghi intorno ci stavano. Mentre nel capitolo 2 il luogo più vicino è sicuramente Putrilo Pantano. E basta. Poi la diga forse c'è stava. Mentre Brughiere stava ancora più lontana dei pinnacoli e condotti rispetto alla mappa del capitolo 1. E mi sono appena reso conto di aver detto Putrilo Pantano anziché Pantano Palpitante. Però stamo lì. È praticamente la stessa cosa. Stesso bioma. Stesso richiamo. E forse pure il capolineo della metro C. In più c'era pure un altro malus che penalizzava questo luogo all'interno del capitolo 2. Cioè il fatto che non era un luogo segnato sulla mappa. Ed essendo più piccolo non lo vedevi così facilmente all'interno della minimappa. Nemmeno ingrandita. Quindi si tendeva a dimenticarsi dell'esistenza di laboratorio della latrina. E certe volte ce lo siamo dimenticato per davvero. No per modo di dire. Entriamo in top 5. E alla posizione numero 5 c'è il Daily Bugle. Il luogo, l'edificio, la città. Chiamatelo come volete. Che resiste a tutto e a tutti. Perché credevamo che se ne sarebbe andato in stagione 2 ed è rimasto. Credevamo che se ne sarebbe andato in questa stagione ed è rimasto. Chissà se resisterà pure fino alla prossima stagione. Punto di riferimento nella mappa. Che se mi conoscete. Se avete ascoltato anche quello che ho detto poco fa. Ma soprattutto se avete visto il video dei miei luoghi preferiti del capitolo 3. In stagione 1 ovviamente. Perché sono un po' cambiati. Questo lo adoro perché mi ricorda tantissimo la densità che c'era all'interno degli edifici in Warzone. Una cosa che desideravo da tantissimo su Fortnite e che poi hanno realizzato per questa mappa. E il Daily Bugle ne è il massimo esempio. Un grande edificio che si sviluppa in verticale. E che soprattutto è pieno al seppo di arredamento, di stanze e di loot soprattutto. Dove soprattutto in no build viene valorizzato al massimo il gameplay e il suo level design. Comprendo perfettamente perché non vengono realizzati tanti luoghi come il Daily Bugle. Perché Fortnite è pur sempre un videogioco che gira su tutte quante le piattaforme possibili e immaginabili. Tra poco pure su Game Boy Color. Tenendo pure presente che l'esperienza di gioco va ottimizzata soprattutto per piattaforme come cellulari e Nintendo Switch. Che non hanno le capacità di calcolo delle console di ottava e nona generazione. Come PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e serie S e X. E il computer manco lo nomino perché è ovviamente la massima esperienza con la massima configurazione. Però so contento che sia stato realizzato un luogo come il Daily Bugle. Nonostante i limiti di alcune piattaforme quindi riempiendolo di roba e soprattutto facendolo sviluppare in verticale. Ma soprattutto rompendo la classica regola del luogo medio di Fortnite. Cioè la casetta con tre arredi in croce. Invece qui c'hai un grattacielo, il Daily Bugle nella sua interezza. Con tutti quanti gli uffici e tutte quante le stanze arredate al massimo. Bello, compresi poi alcuni edifici che stavano intorno al Daily Bugle a New York. Che sono stati trasposti all'interno del vulcano. O quello che un giorno sarà un vulcano. Ma rimanendo sempre in tema di luoghi densi, di luoghi pieni, seppi di ambienti e stanze. Alla posizione numero 4 c'è caverna celata, caverna di comando, latana strana. Insomma tutte e tre le versioni della grotta nel capitolo 3. Quando poco fa vi ho parlato dei luoghi del capitolo 2 che sono molto amati e sono rimasti nel cuore della community. Proprio perché vivi, perché appartenevano a dei personaggi che realmente potevi trovare lì. Facevo riferimento anche alla grotta. Perché tra questi c'era la grotta. Che è durata soltanto una stagione. Per cui tantissime persone, me compreso, hanno sperato in un ritorno. Ritorno che nel capitolo 2 non c'è mai stato. Manco con quella falsa speranza dell'acqua che si abbassava nelle ultime settimane della stagione 7, se non sbaglio. Forse la Epic l'ha capito poco dopo che è finita la stagione 2 del capitolo 2. Che quella grotta era veramente rimasta nel cuore di tutti quanti, quelli che hanno giocato quella season. E che quindi l'avrebbero rivoluta al più presto. Però purtroppo non c'erano piani per una sua reintroduzione all'interno delle season successive. Ed hanno atteso per il capitolo 3. E la sua nuova incarnazione, con le sue successive due nuove incarnazioni. A me piace un botto. Forse è più della grotta originale. Non è stato fatto fanservice con il contentino. Ti è piateve sta grotta perché tanto in realtà l'abbiamo già realizzata una volta. E quindi non è che ci serva più di tanto realizzarne un'altra. Non cambierà. Non ce faremo niente. Facciamo contente le persone che sono nostalgiche di quello che è successo due anni fa. No. Ti hanno messo una grotta per storyline. Che ha di vita all'ordine immaginario. E poi dopo ci hanno aggiunto una marea di stanze in più stagione dopo stagione. E adesso con la terza incarnazione di questo remake della grotta. E' stata completamente riammodernata e ristrutturata in un certo senso. E' sempre quella la struttura con le stanze in più aggiunte nella season precedente. Però l'hanno fatta completamente a tema di questa stagione. C'è stata una cura maniacale per questa nuova grotta. Per questa caverna celata, caverna di comando o adesso Tana Strana. Poi regà da base super segreta e impenetrabile a Oan Vedi. Siamo passati a Uluna Park con tanto le montagne rosse funzionanti. Bellissimo. E da utente PS4 vi posso confermare che sto landing è talmente pieno di roba. De texture, di oggetti, dei particellari. Che a me non si caricano manco più le texture certe volte. Manco più gli asset dove dovresti poggiare i piedi. E chissà ancora che cosa succederà nelle future season del capitolo. Chissà come si evolverà. Stata una strana. Speriamo che questa non sia la sua ultima incarnazione. Entriamo in top 3 perché alla posizione numero 3 c'è la prigione. La nostalgia. La prigione che purtroppo non ho più avuto il piacere di rivisitare. Dopo la stagione 4 del capitolo 1 perché non ho giocato la stagione 10. Che è tornata ma che venne rimossa con l'arrivo del bioma desertico. Che sicuramente ha fatto piacere a tutti. Io ho amato il bioma desertico nella prima mappa. Però mi è dispiaciuto che fosse andata via la prigione. Per il gameplay dell'epoca nonostante non fosse un luogo segnato sulla mappa. Era veramente uno dei landing più amati e visitati. Ed anche uno dei più temuti. Perché chi riusciva a barricarsi al suo interno. Poi dopo effettivamente aveva un certo predominio su tutte quante le persone che provavano ad avvicinarsi. Forse però la prigione originale è stata dimenticata dai più in quanto. Poi lo squallo. Un luogo altrettanto amato e pieno di nostalgia da parte dei giocatori. Sempre stagione 2 del capitolo 2. È diventato anch'esso una prigione. Ma nel mio cuore c'avrà sempre un posto speciale. Perché c'ho una marea di ricordi legati a quel posto. In seconda posizione invece c'è pinnacoli pendenti. Sapete già che cosa penso di questa città. Ve ne ho parlato mille volte. Soprattutto per quanto riguarda il suo ritorno in questo capitolo. Speriamo bene però nel The Block 2.0. Che sarà quindi la sua nuova ennesima vita dopo la sua nuova ennesima distruzione. La città più temuta da tutto quanto Fortnite. Perché ci atterra praticamente mezza lobby. Ed ogni volta è la guerra mondiale. Quando metti piede su un edificio o per strada. Perché senti tutti quanti i peggio spari. Tutti quanti riescono sempre ad atterrare prima di te e spararsi. Quindi tu mentre stai in volo senti già il panico. Ma è comunque uno dei luoghi più grandi mai realizzati. E anche più densi. Perché si sviluppa in verticale. Essendo piena di edifici. Anche luogo con più lutte in assoluto. Perché spawnano sempre circa 60 casse. Eh 60. So tantissime. Di contro però è anche uno dei luoghi più odiati di Fortnite. Perché le persone che hanno come esperienza ideale. Quella di una partita tranquilla. Mai andrebbero a pinnacoli. Perché devi sempre stare attento a non morire da un momento all'altro. Devi averci sempre i nervi tesi. Ed è proprio questo che me la fa amare. Nonostante io non sia una persona aggressiva, competitiva o per l'appunto tryharder. Mi piace atterrarci per quel brivido. Ma prima di poter parlare del primo posto. Voglio fare una piccola menzione d'onore. E parlarvi dell'ex primo posto. Cioè il negozio. Il negozio era questa struttura vicino. Siepi d'agrifoglio. Che si aggiornava solo ed esclusivamente ad Halloween. E che aveva un potenziale infinito. In quanto poteva aggiornarsi per la festività di turno. Oppure mostrare le skin che avrebbero voluto vendere maggiormente. Quelle di Epic. E invece no. Appunto. Solo per Halloween veniva addibito questo negozio. Che per la maggior parte del tempo. Cioè praticamente tutto l'anno. Rimaneva vuoto. E poi la seconda volta. Al secondo Halloween consecutivo. Manco hanno fatto dei cambiamenti o delle migliorie. No. È rimasto lo stesso posto dell'anno precedente. Con addirittura le skin. Che te volevano vendere nel 2020. E stavamo nel 2021. Davvero un'occasione persa. Come molte cose nel capitolo 2 purtroppo. Infine. Alla prima posizione. La fortiglia. I bei momenti passati in questo luogo. In questa sorta di avamposto galleggiante. Molto ma molto in tema con la stagione. Insomma ne era uno dei massimi rappresentanti. Di luoghi della season 3 del capitolo 2. Ed uno dei più divertenti in assoluto. Perché le persone ci atterravano. Anche a prescindere dalle ricompense. Che si potevano ottenere dal cavo. O dal boss. Come ad esempio il vampa mitico. Il ciaggia infinito. Ma era proprio un bel luogo. Era piacevole starci. C'era una bella atmosfera. Che si sposava con tutto quanto il tema della stagione. Nonostante questa città galleggiante. Che era più un avamposto. Si trovasse ai margini della mappa. Poi abbiamo pure scoperto dagli artwork originali. Che veramente. Quella doveva essere. Una città galleggiante. Con una cozzaia di cose. Recuperate dal disastro. Tant'è che pure i caricamenti. E la zona dei ristoranti. Fanno pure capire. Come quello. Si è sempre rimasto. L'intento originale. Ma che non tutto. Come tante altre cose successe in questo gioco. Non è andato secondo i piani. Per una serie infinita di ragioni. Il risultato è stato comunque ottimo. Tant'è che si trova in prima posizione di questa lista. È il mio luogo preferito. E mi manca un sacco. Ma ora. Cari monkeys monkeys. Qua sotto nei commenti. Voglio sapere la vostra. Qual è il vostro luogo preferito di Fortnite. E magari fatemi pure sapere. Se siete d'accordo con la mia lista. O fatene una vostra. La sezione commenti di questo canale. È a vostra più completa disposizione. E sapete che sto curioso di leggeve. Vi ringrazio per tutto quanto l'immense e infinito costante supporto. Che date ogni giorno al canale. E sapete pure che apprezzo tantissimo. Infatti. Dovuti ai meritatissimi ringraziamenti. Non posso. Che dare appuntamento. Direttamente. Ad un prossimo. Video. Ma perché prendi fuoco se vai qua? Non lo so. Prendi fuoco. Ma che senso? Oddio è vero? Perché prendi fuoco? Vattene. E ora? Sistemato. Sono un compiere. Brava legno. Sono un compiere. Sì. Sì.